Non è guidabile sta cosa, ma solo avanti e indietro, girati! Non gira, vai che devi muoverti per girarti però, allora lì è occupato, possiamo parcheggiare qua Capisco che gli ormeggi ci sono queste specie di incudine qua Queste primo Y non scende Si vado sulla spiaggia? Cioè qualcosa là non è superabile Mi sa che non si può fare adesso Ma quelle frecce rinascono? Cioè si respawnono Cioè si vado Ecco tutta questa zona enorme inesplorata e poi resta un po'. Ho scherciato velocemente perché pensavo di saltare la... quello che stavo dicendo. E quindi mi ha soluzionato prima. In realtà lui ti mette A ma in realtà praticamente vai in avanti in automatico comunque. Quattro. 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 Potremmo, sì, potremmo che ho visto qualcosa di così. Mi sembra di così. Sei pronto per parlare, Annie? Guarda, mi viene! Voi tutti non vengono a prendere le nostre cervello? Non ancora, ma magari dovremmo fare una ricerca di mercato su questo e vedere se c'è una demanda per questo servizio. Il sacco di mercato mental che ti stai scendendo. Ho solo il servizio qui qui nel centro, se non hai mai avuto un problema per cui vedi un sacco di mercato. Difficulti su. Lo sotto? Ah, c'è qualcosa lì. in realtà devo dire che mi fa piacere giocarlo adesso proprio perché sembra un'operazione nostalgica non ho idea esattamente di chi gioco fosse non me ne sono mai interessato già sapevo che era ben accolto però effettivamente non avevo sbirciato e giocarlo adesso in realtà mi ha questo piacevole questo piacevole sensazione di ricordi non è qua non è è guardato niente niente di particolare forse per me due tipi di giochi che a me piacciono sono appunto questi qua le avventure dinamiche e i giochi tipo il system shock della vecchia looking glass e poi l'eredità da raccolta l'arcane se non che l'arcane ormai non si sa che fine ha fatto perché se ne è andato anche il fondatore non so se ne è andato in pensione non credo che sia andata e basta cioè come a quelli della blizza che se ne sono andati dalla blizza forse un altro potere per estrarlo e quindi ok parlo di dito ok disonore dodati c'è qualcosa da raccoglie e pray e quelli sono i miei giochi cioè sono tutte avventure alla fine se si può pensare sono tutte avventure che trasportano in un mondo alternativo come anche questo di fantasia ah questo forse è un'unica cosa da raccogliere i famosi oggetti serie da 4 o da 8 da 8 mi sembra se ne si è andata warning geodesic psycho isolation chamber this way stay out è messa e ha la splat sono assolutamente meglio se ne facessimo uno al mese ne giocherei uno al mese ma non è così sono molto impegnativi da costata per fare attivi costosi e probabilmente hanno l'anno tutto questo rientro gente preferisce non so fifa non so non l'avventura e quanto parla ok 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 sono un servitore sono un servitore pronti si ho lavorato un test sembra che la circolazione sensibilizzata del cervello si prende troppo interferenza psico per essere sicuro i pensi di un altro entità si interlacono con te sui si si vincere si 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 non si non non che si ci 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 da una lavorazione di sasha che forse la questa era parte di mila esperimento il frullamento rioni sasha non so ma il gioco è sovra a pensare un po' inguitabile ma è evidente che questi frammenti qua in effetti siano finiti e qua c'era questo e c'era anche l'altro prima no no Oh, buon ragazzo, c'è quel cervello pescato, qui c'è un tessuto, ora, non ti senti meglio, mio amico? Davi? Oh già, ha preso anche quella? Per seguire il cervello di Dog and Jupp e la pattugnera, posso parlare? Ok, non è tanto a dire. Cato, i filmati sono a 30 frame. Boss. Boss. Spirizzo? No, non c'è l'aglio di ciò che c'è una volta. Ah, confusione! Grenade! Quindi, Dizzy, chi sono? No, ne faccio qualcosa. Dice la confusione. Rats! That tank is armored like a... Tank! Boh, si ha aperto un certo punto, mi sembrava. Questo? Probabilmente non a la cima, però. Probabilmente hidden. The weak spot, mi sembra. Probabilmente hidden on. Like the bottom. Parti basso, si. Man, I am so smart. I don't play. So, uh... So, uh... Uh... Allora... Se sono sulla sfera... Non lo locka. Quando colpisce... Ah... Excuse me. Huh? Ok. Sparava da una parte apposta nel mercato. Ok, ok. Adesso. C'è il colore verde sotto. Adesso. Adesso. Ma lo calo! È una distanza limitata, eh. È una distanza limitata. Ok. Uh... Oh... That's like... I don't know... Oh! 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 Ugh! Oh! Non c'è arrivo Ah È assurdo Si tira dalla parte di là Oh Beh Io vorrei piacere Ok Ok Grazie a tutti. 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 Oh... 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 Uh... Questa cos'è? ma io non andrò quando parla di portieri psichici elena mentale rematore cosa saranno a fare i ranghi perché tanto per ora le abilità ce le sta dando a mano sono salvataggio bioshock è venuto in mente mi sembra che secondo non ho mai fatto fatto il primo e infiniti ma non il secondo poi l'evoluzione del remaster c'è da fare una rassegna anche di quella un giorno sono un miliardo di titoli non c'è quasi respira il primo è stato un miliardo di potenza mi dai per una perla adesso mi è vicino all'abissola si fa entrare sfondando sfondando le pare ai no no sfondando le pare sfondando le pare sfondando le pare